...importante perché mi portò a un nuovo insediamento chiamato Paradise, Paradiso. La città chiamata Paradiso era piena di giocatori d'azzardo, di pistoleri, di spie. Insomma, il posto ideale per concretizzare quello che avevo in pente. Ah, va bene, mi avete pelato. Vi dicevo che Tre Croci, malgrado il nome che porta, è una città fantastica, piena di gente ricca. E nessuno va in giro armato? No, nessuno va in giro armato. Vuoi carte? Nemmeno lo sceriffo? Non c'è sceriffo. Tu vuoi carte? No, niente sceriffo, a che servirebbe? Sono tutti benestanti, fanno una vita calma, sicura, ricca. Eppure io non mi sento tranquillo, li girano troppi soldi. Sei una città ricca, non sei contento? No, perché con un paio di pistole, due uomini decisi, lì diventano i padroni. Sapete che è successo a Spring City? Due pistoleri hanno messo su un'associazione per proteggere i commercianti. Obbligavano i commercianti a pagare 10 dollari la settimana per questa protezione. Che succedeva a chi non pagava? Un grave incidente. In due mesi si sono arricchiti. Peccato per quei poveri commercianti. Sono molto preoccupato. Facciamo un altro giro? No, è già tardi, me ne devo proprio andare. Domani mattina parto presto. Salve ragazzi, ci vediamo. Modestamente sono un genio. Ero appena tornato a Trecruci che già il mio piano aveva funzionato. I due angioletti erano arrivati dritti dritti dal paradiso come avessero imparato la parte a memoria. E così il mio compagno e io abbiamo scoperto che questa città è priva di protezione. Non abbiamo bisogno di protezione. Sentito, Stony. Barnett, questo è un mondo che cambia. Oggi non avete bisogno di protezione, ma domani... Ma nonno, ci stanno minacciando. Ma che idioti sono. E noi che ci preoccupiamo per... E finitela, non sono mica nato ieri. La verità è questa. Volete che ogni commerciante vi paghi dieci dollari la settimana per non avere guai? Signor Barnett, è il nostro lavoro evitarvi dei guai? Ma non qui a Trecruci. È ora fuori dal mio negozio, anzi fuori dalla mia città. Quindi non volete sottoscrivere? Fuori di qui. Un consiglio, amico. È meglio se non ti mischi. Ha commesso un errore, Barnett. Spero che non se ne pentirà. Lei non sa quanto ha bisogno di una protezione. Bravo, è stato magnifico, proprio magnifico. Certo, se avessi la pistola. Non concluderebbe niente. E lei che ha concluso? Non so che ce l'abbia mandati qui, quei due, ma li sbatterò via e alla svelta. Ma lo farò a modo bio, senza usare le pistole. Mi sono spiegato caso... Beh, il sindaco è lei. Ero o non ero un genio. Ora Barnett avrebbe cercato di cacciare quei due dalla città, ma senza riuscirci. E a quel punto li avrei cacciati io, così quei bravi commercianti mi avrebbero fatto sindaco, o perlomeno sceriffo, e mi avrebbero pagato per proteggerli. Ma tutto legalmente, onestamente, non ero un genio. Esci fuori di lì, subito, con le mani in alto. Cass! Ehi, dico, ma è matta nascondersi lì dietro. Cosa fa? Lei pulisce la pistola? No, vedrà che la mando a pulire in tintoria adesso. E senta, io le devo parlare. E allora parli, sentiamo cosa da dire. Perché la nipotina del sindaco non crederà che... Non crederà che... che io... Non... Ma questo non lo puoi fare. Perché no? Beh, perché quasi non ci conosciamo, ecco. Non importa. Tu sei tu e io sono io. Beh, Nancy... Perché ti fai tutti questi problemi? Devi solo guardarmi un momento. Ti piaccio o no? Nonno, sei ferito. Oh, ma che scoppio. Bella botta. Cosa è stato? Cipria, no, dinamite. Ehi, quei due che sono venuti a offrirci protezione. Non sarà opera loro. Strana coincidenza. Cosa pensa di fare ora? Niente, me la vedo io. Non voglio violenze qui a Trecruci. Beh, faccia come vuole, ma la dinamite è già una cosettina abbastanza violenta. Tutto filava a meraviglia. Mi sentivo un burattinaio che muove i suoi bravi burattini. Sarei stato sceriffo, sarei stato sindaco in pochissimo tempo. Chi me l'avrebbe impedito ormai? L'indomani a Trecruci non si parlava d'altro. La gente era eccitata come dopo uno spettacolo al circo. Non è come pensi. Il sindaco non sarà solo a sbattere via dal paese quei due. Tutti noi lo aiuteremo. Potrei anche sentirmi tranquillo, ma siete disarmati. Allora che vorresti fare? Te lo dico io cosa vorrei fare. Io sarei lieto di non toccare un'arma e vivere nella legge. Ma per salvare il paese sarei disposto a riprendere la pistola. Magari ammazzare quei due? Ma questo è assurdo. C'è una legge precisa in questo paese. Qualche volta una legge la devi correggere se la vuoi conservare. Non capite? Io spero che non si arrivi mai a questo. Ma se Barnett non ce la fa con quei due? Beh, tutto il paese è stato così buono con me che adesso vorrei proprio dargli una mano. Ehi! Il sindaco è stato ferito o un incidente. Com'è successo? Era uscito per andare a parlare con i due pistoleri quando d'improvviso da una casa vicina è venuto giù un pezzo di cornicione che gli è caduto addosso. E dove si trova ora? Dentro l'Emporio. E c'è anche il medico. Forse il cornicione è caduto in seguito allo scoppio di ieri sera. Non penserai a una scemenza del genere. Lo sappiamo tutti che cosa è stato. Non dovevo perdere tempo. Dovevo darmi subito da fare prima che i miei illustri concittadini prendessero decisioni per conto loro. E anche prima che quei due ammazzassero Barnett. È di là. Vado. Come sta? Beh, è male. Nancy, non ti preoccupare. Ce la farà. Certo, forse sarà meglio che lavori un po' meno. Io mi posso occupare dell'Emporio. Si può anche ritirare dagli affari. Sono sicuro che ha già un bel gruzzoletto. Cosa? Ma no, non ho nessun gruzzoletto. Non con tutti i soldi che fa col negozio. Con le entrate extra andiamo. Quali entrate extra? Ma tesoro, non sono mica cieco. Ho visto gente a dargli dei soldi. Deve avere le manine in ogni torta qui in città. Cass Kendall. Quei soldi erano la restituzione di un prestito. Ma va? Mio nonno ha prestato del denaro senza interessi. A mezza città, domandalo in giro. E non sono solo i prestiti che lo rovinano. Ti ricordi quando hai comprato la dirigenza? Gli hai versato duemila dollari. Esatto, era la mia offerta. Beh, lui alla vedova ne ha versati tremila. Ma che cosa dici? Perché dovrebbe fare una cosa del genere da matti? Dal tuo punto di vista fare una cosa del genere da matti? Tu non c'eri quando hanno vinciato quei tre. E non hai visto mio nonno quando ha saputo che erano innocenti. Da quel brutto giorno ha fatto tutto quello che poteva perché la gente fosse più felice in questo paese. D'accordo, ma allora spiegami perché avrebbe aiutato me che sono uno straniero, scusa. Al paese serviva la dirigenza. Alla vedova servivano quei soldi. E tu gli eri simpatico. Hai intuito che avresti fatto molto per tutti noi. No, cara. Se lui ha la coscienza sporca non è affarmi io. Non può coinvolgermi in queste storie. Io mi faccio i fatti miei e vivo la vita mia. e non voglio sentirmi obbligato verso tuo nonno e i suoi giochi. Prestiti senza interesse. Mille dollari regalati a una vedova. O Nensi mentiva o il vecchio era pazzo. Certo, chi è che vive per gli altri? Giusto un pazzo. E poi gli avevo chiesto di aiutarmi. No, non gli dovevo niente. Avevo architettato di approfittare un po' dell'idiozia di questi paesani che volevano vivere senza pistole. Che mi importava di Barnett, poi? Che mi importava di quella brutta città con quel brutto nome. Tre croci. E invece maledizione mi importava. Ma perché? Perché? Va bene, pensai. Che se la tenga la sua bella città. Io me ne vado. Certo, prima caccio via i due pistoleri. Poi pianto tutto e me ne vado. Ma sì, tutti possiamo sbagliare una volta. No, Fermi, non vi consiglio di provarci. Sei rapido, amico. Bravo, capisci le cose al volo. Ne ho visti di più rapidi. Non in questo paese. E comunque voi ve ne andate prima di domattina. Domattina? Già, visto che sono più rapido di voi. Anche di me, Cass? Il mondo è strano. È una gioia rivederti, sai? Mi è dispiaciuto quando sei andato via senza salutare. Oh, beh, aveva un affare urgente. Poi ho sentito dire che avevi comprato una diligenza e ho deciso di dare un'occhiata. È un bel posticino. Non c'è niente qui per uno del tuo talento. Ma io mi accontento. Siete ancora qui, voi? Io non gli ho dato tempo fino a domani. Gli ho detto di sparire subito. Ma che succede, Cass? Non sembri felice di vedermi? Ho per caso sconvolto i tuoi piani? Quei dove si accontentavano di poco. Quello che chiedo io, a ogni abitante del paese, te compreso, è il 10% del reddito. Così nessuno si potrà lamentare. Se va bene lui, vado bene anche io. E pensi che la gente qui farà come dici tu? Non credo che abbia molta scelta. Chi mi può affermare? Tu forse? Non credo che oserei batterti con me, vero? Ma forse sbaglio. Se vuoi provarci, io sono pronto. Altrimenti hai un'ora per gettare la pistola e cominciare a pagare. Così sarà un buon esempio per tutti gli altri. È tutto chiaro? Trecoroci non era male come paese. Non avevo voglia di andare in giro a trovarmene un altro. Che cosa dovevo fare? Potevo andarmene a lasciare il paese nelle mani di Pike. O anche rimanere e pagargli il mio 10%. No, 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 no. Così, tanto per fare un'ipotesi, potevo anche battermi in duello con lui. Questo proprio non mi andava. Non mi andava. Come sta tuo nonno? Molto meglio, ti vuol vedere subito. Vuole parlarti di quei due. Le cose sono cambiate, Nancy. È arrivato Pike Dillon. Chi è arrivato? Pike Dillon, uno che spara meglio di me. Senti, non vorrei mica... Mi aspetta fuori. Cass, non puoi farlo. Senti, non puoi farlo. Senti, non puoi farlo. Un momento Cass, lascia che gli parli io È troppo tardi signor Barnett Devi darmi lettera, risolviamo le cose a modo l'altro Non può sparare a tutto il paese riunito Corri, vai a chiamare noi Non potrete fermarlo, anche se va via tornerà con altri dieci come lui Il paese non sarà sicuro finché lui è vivo Corri, chiama la gente Ma nonno, non c'è nessuno in giro No, lui è qui perché ci sono io, è una faccenda nostra Sono cinque anni che nessuno spara un colpo in questa città Ma spero che il primo sia il tuo Cass, fatti furbo Dimenticati che hai una pistola Lui è più rapido di te, quindi la pistola ce l'ha lui Lui è il cacciatore, tu sei la volpe Cass, tu sei la volpe Ci metti anni per realizzare un'idea e un minuto per distruggerla Questo non prova niente, lo so anch'io che le pistole uccidono Ma bisogna difendersi, non c'è altro da fare È un gran bel paese, ma tienilo pulito E allora cominciamo a rispettare le leggi Vuoi che rimanga? E perché no? Se uno è pronto a morire per una città Ha diritto di viverci Grazie Ben detto Va bene, va bene, rimango Buongiorno Grazie a tutti.